Ciao amiche e amici, che cos'è la femminilità? Beh, la femminilità intanto non è una cosa unica, ma è un insieme di caratteristiche. Però la femminilità è ciò che di una donna attrae maggiormente un uomo. Cioè un uomo in realtà è attratto molto di più dalla femminilità che da altre caratteristiche di una donna. Ma la femminilità non è una caratteristica, è fatta da un insieme di cose. Questi insieme di cose sono ad esempio la personalità. La personalità non deve essere una personalità aggressiva, ma deve essere una personalità aperta, comunicativa. Il sorriso è un indice forte di femminilità. Poi ci sono i gusti, gli atteggiamenti. Atteggiamenti femminili sono quelli diversi da quelli maschili. Una donna ha un atteggiamento più aggraziato, più delicato, più tenero. Sono tutte caratteristiche meno marziale. Una donna che si muove in modo marziale, come un marine, diciamo, in assetto da combattimento, è l'antitesi della femminilità. Quindi invece il movimento deve essere... Il tacco alto, perché esalta la femminilità? A parte che si lancia la gamba, quindi un aspetto estetico, ma la donna è un po' più fragile, un po' più traballante. Questo è un aspetto della femminilità. Poi sicuramente l'aspetto fisico. Alcune parti del corpo, ovviamente, quelle che differenziano maggiormente la donna rispetto all'uomo. Ad esempio il seno, i fianchi, l'inclinazione, diciamo, la curvatura della schiena per andare al gluteo. Questa curvatura, ad esempio, è indice anche di fertilità, per cui è un segnale per antonomasia di femminilità. Ma anche il tono della voce, che è un tono della voce meno forte, più, come dire, una vocalità diversa rispetto a quello del maschio. Una donna carina, ma con una voce da camionista, per intendendo una voce rauca, dura, perde molto della femminilità. Dovrebbe essere zitta. Poi, ovvio, ci sono tutta una serie di cose che possono accentuare la femminilità su cui la donna può agire. Il tipo di abbigliamento, ovviamente, che va a esaltare le forme, le forme più femminili, che va a mettere in evidenza alcune parti del corpo. È sicuramente un aiuto per la femminilità. Quindi bisogna agire su tante componenti. Se tutte queste componenti agiscono in modo sincronico, nel modo giusto, viene fuori una donna femminile. È una donna femminile, quindi morbida, con il sorriso, vestita in modo femminile, delicata, con grazia, tenera, con un atteggiamento, diciamo, dolce, non marziale, ovviamente. È una donna femminile. Quello che poi uno dice, cavolo, quella mi piace. Questo è quello che fa scattare tutto questo. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!